Eccomi. Ciao Chiarella carissima, ben ritorata. Eccoci qua di nuovo. Eccoci, eccoci. Allora, tu ci parli da Tallinn. Tallinn, Estonia. Estonia, fantastico. Quindi andiamo ancora più lontano ed è sicuramente una realtà molto molto interessante. Per raccontarci ciò che stai facendo e come. Perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti e tutte da una innevata Tallinn in cui hanno anche parto i mercatini di Natale. Lo scorso weekend, tra l'altro sono fra i più belli in Europa, lo dico così tanto per cominciare. Allora, io sono Fiorella, sono expat in Estonia, sono mamma di un bimbo di indici mesi, sono solopreneur e fedele partecipante al freelance camp da anni. Questa è la mia terza volta come speaker. Una velocissima introduzione perché tanto vi parlerò di me già e della mia esperienza tra poco e vi racconterò nello specifico cinque momenti di questa meravigliosa avventura in Estonia. Il mio scopo con questo talk è quello di farvi scoprire che un mondo digitalizzato senza burocrazia inutile e che supporti la vita personale e professionale c'è e si chiama Estonia. Abbiamo anche molte foreste, più del 50% del territorio estone sono foreste, ma va bene. Quindi vi racconterò anche dell'apertura della mia SRL e di come praticamente chiunque nel mondo può aprire un'azienda in Estonia. Iniziamo. Iniziamo, vi parlo un attimo di quello che appunto abbiamo percorso. Allora, nell'autunno 2019 ho deciso che volevo dare una svolta alla vita che stavo vivendo, perché non era più la mia e ho deciso di fare un grande cambiamento. Torno a vivere a Milano, mia città natale, e inizio a mandare CV perché avevo partita io da cinque anni, però comunque cambiando città dopo tredici anni in un posto non avevo più contato, insomma volevo avere una sicurezza in più e ho iniziato a cercare lavoro da dipendente. Lavoro che pur avendo un'esperienza di quasi dieci anni nel digital marketing, io a Milano non sono riuscita a trovare. quindi inizio, mi metto in contatto con un'azienda internazionale per cui avevo già lavorato in passato per realizzare un sogno che ho sempre avuto, ovvero andare a vivere all'estero. Cosa ho sempre voluto fare, mai avuto l'occasione di farla. Passo le selezioni e mi preparo a partire per la Malesia, non proprio l'Estonia. Tutto perfetto, fantastico, figata, arriva il Covid, arriva il lockdown in Italia che tutti conoscevano molto bene. Finito il lockdown in Italia, inizia quello in Malesia, che però è stato molto più tosto perché hanno riaperto le porte al turismo quest'estate 2022, per dire. A questo punto mi rendo conto che comunque la mia azienda ha una piccolissima sede in Estonia, non si sa bene perché, quindi headquarters in Malesia, Kuala Lumpur, altra sede in Estonia. Quindi scusate, essendo io in Europa, non è che posso andare a vivere in Estonia anziché in Malesia, così la butto lì. Mi dicono di sì, più o meno, alla fine mi sono un po' presa questa libertà. Prendo e parto a settembre 2021, subito prima dell'altro lockdown, proprio qualche giorno prima che poi chiudessero i voli. Prometto, io in Estonia non c'ero mai stata, neanche per turismo. Tutto quello che sapevo è legato alla scuola delle Repubbliche Baltiche, Sonia Lettonia, Lituaglia, senza neanche sapere bene le capitali, le confondevo, eccetera. Quindi non sapevo nulla. Ho scoperto dopo che è una delle capitali digital in Europa ed è anche chiamata la Silicon Valley europea per via di tutte le start-up del mondo tech, per esempio Skype è nata qui, TransferWise, un sacco di realtà di cui io assolutamente non sapevo nulla. arriviamo al mio primo contatto con il mondo digitale in Estonia, ovvero ottengo la mia ID card, che è praticamente una carta d'identità, che è anche una firma digitale, una presenza digitale a tutti gli effetti. C'è un apposito lettore in cui inserire la carta, adesso è arrivata anche in Italia, quindi lo saprete. Devo cambiare residenza. Perfetto, la mia ultima esperienza di cambio di residenza in Italia a Milano era stata stampo dei moduli, allego altre cose vecchie, richieste. Compilo il modulo, vado di persona in comune, aspetto un due, tre, quattro settimane, arriva il vigile a suonarmi il campanello e dopo un tot la residenza è cambiata. Estonia. Infilo la mia ID card nel lettore, compilo, inizio la procedura, finito nel tempo di tre minuti, dopodiché i step successivi sono l'owner dell'appartamento di cui ero un affitto a prova e il dipendente del comune a prova. In mezza giornata la mia residenza era cambiata, quindi questo è stato il mio primo approccio al digitale, ero già in brodo di giugio, ho detto, boh, io voglio vivere per sempre qui, per me era già così, già al primo step. Il secondo contatto con questo nuovo mondo, burocrazia free, arriva quando decido di, oltre ad avere comunque il lavoro da dipendente, avere comunque delle consulenze di clienti che mi ero portata dall'Italia, eccetera. Però non volevo ancora aprire una partita IVA, ho appena chiuso quella in Italia, perché poi cambiando residenza cambiano una serie di altre cose, spostandola all'estero, quindi per carità. Quindi non volevo subito aprire una partita IVA, anche zero sbatti. Cosa scopro? Che la mia banca, Estone, ha questo conto corrente entrepreneur, dove praticamente puoi ricevere dei bonifici, per i lavori che fai e il 20%, perché qui le tasse, le imposte sono il 20%, il 20% di imposte va direttamente al tax board, che è l'equivalente dell'agenzia delle entrate. Quindi in pratica io faccio una consulenza, non serve mettere fattura, mi faccio, quindi facevo delle ricevutine carine, grafiche così, del tutto inutile a livello fiscale, il cliente italiano lo sapeva che non poteva dedurre, per esempio, mi pagava e il 20% di quell'importo li andava direttamente al tax board. Questo, pensate, come potrebbe fare la differenza in Italia, per esempio, a tutti gli hobbisti, le hobbiste, insomma, a tutte quelle categorie che sì, vorrebbero fare qualcosa, però aprire partita IVA, un attimo. Quindi questa per me è stata, boh, un'altra di quelle cose che ho pensato, ma questo è un altro pianeta. Arriva la terza esperienza digitale in Estonia, che è la dichiarazione dei redditi. Allora, io dopo partita IVA 5 anni in Italia, le ansie non ve le racconto neanche, le sapete. Bene, inizio la procedura della dichiarazione dei redditi e in meno, davvero meno di un quarto d'ora, ho fatto. C'era già tutto precompilato, era tutto perfetto, c'era già tutto, potevo già vedere tutto quello che avevo incassato dal conto corrente entrepreneur. Fantastico. Clicco, ok, confermo, e dopo un paio di giorni ricevo l'importo che dovevo ricevere, che risultava extra, doveva arrivarmi. Anche qui io davvero avevo le lacrime agli occhi, ragazzi. Non potete capire la gioia di fare una dichiarazione dei redditi in un quarto d'ora, avere dei soldi da prendere e prenderli dopo due giorni. Paradiso. Sempre in aprile 2021 arriva un'altra notizia, ovvero che sono incinta. Anche qui senza sapere che l'Estonia è tipo il miglior paese in Europa per la maternità e le politiche a sostegno della famiglia. Forse il secondo, primo ci sarà la Svezia. Comunque siamo lì. Inutile dire che è tutto online, tutto automatico, e la cosa figa, è che ci sono cinque mesi di maternità, proprio maternity leave per la mamma, subito prima del parto e postparto, e poi c'è, tenetevi forte, un anno e mezzo di parental leave pagato dal governo in cui la mamma può stare a casa col bambino, ma non solo, non è solo la mamma, perché volendo, quest'anno e mezzo lo può prendere il papà. Perché ammettiamo che la mamma voglia il suonare a lavorare e il papà invece voglia prendersi l'anno e mezzo di pausa, può farlo. Cioè, capito? Una roba, tutti in Estonia, esatto, un commento. No, ragazzi, c'è una roba fantastica. E quindi, perfetto. Quindi non vi dico questo solo per farvi notare la differenza con l'Italia, ma perché questa nuova situazione di avere davanti un anno e mezzo pagato dalla maternità, insomma, mi ha spinta ancora di più ad aprire effettivamente un'attività. Quindi non solo avere il conto corrente di prima, che poi ho chiuso, ma avere effettivamente una mia azienda, una mia O.U., che sarebbe l'SRL italiana. Quindi, tra l'altro, ci sarebbe la possibilità di avere una partita viva come professionista, tipo freelance in Italia, come quella che avevo io prima. In realtà qui è intesa solo per i lavori stagionali. Qui, per una serie di benefit che adesso vi racconto, tutti aprono SRL, praticamente. Quindi, di nuovo, con la mia cara ID card alla mano, una procedura completamente online di 15 minuti netti, ho aperto la mia SRL. Dal giorno dopo era attiva e potevo già iniziare a fatturare. Non serve il notaio, perché comunque è tutto digitale, loro sanno già chi sei, usi la tua ID card. Si paga una fi governativa di ben 265 euro per aprire l'azienda. Non vi dico, parentesi, ho comprato casa l'anno scorso, non vi dico quanto ho speso di notaio. Una cosa ridicola. Quindi, 265 euro di fi governativa per aprire la SRL, pagata dentro il portale di apertura della SRL, direttamente collegata alle principali banche estoni, con un template per creare il mio statuto, volendo si può anche fare un upload del proprio. E, essendo io senza shareholders, quindi una sola propone, io da sola mi apro la mia SRL, sono l'unica persona all'interno, sono owner, sono board, sono tutto io da sola, e, avendo attività di consulenza, quindi senza produzione, senza fornitori, ho potuto evitare di versare il capitale, qui il capitale minimo per un SRL di 2500 euro, che posso versare entro dieci anni dall'apertura dell'azienda. Chiaramente, essendo comunque una società di capitali, finché non versi i 2500 euro, sei responsabile con il tuo capitale personale, però, appunto, di nuovo, non è tanto diverso dalla partita italiana, e quindi essendo solopreneur, comunque, mi faceva comodo, non ho potuto versare quei 2500 euro, fantastico. Altra cosa importante da sapere, che qui l'IVA è al 20%, e comunque, pur essendo SRL, non è dovuta al di sotto dei 40.000 euro di fatturato. Un'altra cosa per me, fra le cose, io davvero mi sono fatta ripetere questa cosa da una commercialista più e più volte, ho chiamato io il tax board per essere sicura di questa cosa, perché non ci credevo, ho anche spiegato ma per noi in Italia non funziona così com'è possibile. Praticamente, qui le tasse non si pagano sull'incassato, ma si pagano sugli stipendi. Cosa vuol dire? Io faccio i lavori, mando le fatture, mi registro da sola le fatture, non ho neanche la commercialista, ne ho una di riferimento che ogni tanto le chiedo qualcosa, mi registro le mie fatture, mi arrivano i pagamenti, e se io i soldi li lascio nel conto company, non ci pago le tasse. Posso usarli per fare spese nelle renti all'attività, per esempio corsi online, un computer, eccetera, 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 ma non ci pago le tasse. Adesso, quindi io intanto l'ho usato per qualche mese come conto deposito, poi ho deciso di iniziare a pagarmi uno stipendio e pago il 20% di tasse più un circa 3% che si divide fra pensione e sanità. Quindi io ho una certa somma sul conto company, ma pago le tasse solo sugli stipendi che mi pago, che pago a me stessa, anche perché sono solo per noi. Arrivo, oltre a questo, già non so perché non siete ancora comprando un biglietto per l'Estonia, arriviamo alla quinta esperienza meravigliosa, che è la mia banca mi permette di pagarmi lo stipendio e nello stesso momento di pagare le tasse al tax board. Un po' con lo stesso ragionamento del conto che vi dicevo prima, ma in questo caso non è SRL, non è solo un conto così, volemmo sebbene facciamo del business così. Quindi come funziona? Io mi faccio un conto, mi faccio un bonifico dal conto company al conto personale, mi arriva il netto sul conto personale e le tasse, quindi quel 20% circa, parte un bonifico direttamente dal mio conto company al tax board. Questo mi permette di non dovermi neanche fare la busta paga, essendo solo preneur, quindi è una serie di sbattimenti meno che, che ve lo dico a fare, cioè per me è stata una roba mind blowing e tra l'altro non lo sapevo e me l'ha detto questa commercialista, ha detto guarda adesso voglio iniziare a pagare me lo stipendio, quindi mettiamoci d'accordo, ti pago una fee mensile, tu mi aiuti, mi fa guarda che non serve, se hai il conto in questa banca qui puoi farlo da sola. Boh, esplosione il cervello di nuovo. E quindi, se volete aprire un'azienda in Estonia o venite qui a vivere a Tallin, anzi ci troviamo, ma anche se venite per turismo scrivetemi e ci troviamo. Ah, volevo aggiungere una cosa, una cosa che ha detto Roberto prima nel suo talk, qui si parla Estone, si parla anche russo, dovuto a una serie di avvenimenti storici, ma tutti, davvero tutti parlano inglese, tutti i documenti con la pubblica amministrazione sono in inglese, ovviamente tutte le procedure per aprire l'azienda eccetera, è tutto in inglese, quindi anzi, volendo puoi imparare l'Estone, qui ci sono una serie di attività di welcome, quando sei expat in Estonia, tra cui un corso di A1 gratuito di sei mesi, che io ho fatto, e diciamo che se provi a spiccicare qualche parola in Estone, gli estoni sono anche, sono anche, insomma, gli fa piacere, se ti capiscono, perché poi c'è anche una questione di accento, non sono abituati a sentire parlare Estone da uno straniero, perché capirete bene che con un milione e tre di abitanti non è proprio una lingua studiatissima nel mondo, ecco. Quindi, o venite a vivere in Estonia, e io vi aspetto a Tallin, o potete aprire la vostra azienda attraverso la e-residency, ovvero la vostra azienda digitale in 5 step, poi vi metterò il link qui sotto, facciamo i youtuber, qui sotto troverete la descrizione, Silvia mi ha detto che vi caricherà un PDF in cui ci saranno i link di tutte le cose che vi ho raccontato, con un centinaio di euro si diventa e-resident, vi arriva a casa o all'ambasciata più vicina la vostra carta, che poi servirà di nuovo per identificarvi, ci sono poi i 265 euro che ho pagato anch'io per aprire l'azienda, in questo caso ci sono anche altri costi, tra cui l'avere un indirizzo legale in Estonia, l'avere un conto corrente in Estonia e un commercialista, una commercialista in questo caso obbligatorio, poi davvero vi metto i link, ci sono un sacco, è tutto spiegato, tutti i siti del governo estone sono spiegati, cioè si capisce tutto, si capisce tutto, basta leggere le cose una volta, si capisce, anche il tone of voice è molto friendly, sono fantastici, e quindi troverete tutte le informazioni anche di video tutorial, arriviamo alla cosa clou dove si pagano le tasse, se io sono in Italia o un'azienda in Estonia, qui le cose sono come sempre non complesse, però insomma si valutano caso per caso, non ci sono delle risposte generiche che vanno bene per tutti, la questione è dividere innanzitutto imposte personali da professionali, quindi in questo caso dell'azienda, le tasse si pagano o dove vivi, perché se tu vivi in Italia e apri un'azienda in Estonia con la e-residency, ma tu sei e vivi in Italia, quindi comunque i soldi che ti entrano, gli spendi in Italia, crei ricchezza in Italia, adesso perdonatemi non uso parole tecniche, allora dovrai pagare le tasse in Italia, ma se tu sei per esempio digital nomad, ti sposti di qua, di là, puoi avere come luogo di pagamento delle tasse, mettiamola così, l'Estonia e quindi è tutto ancora più lineare e semplice, in ogni caso appunto ci sono i commercialisti specializzati in questo, sono la conoscenza di tutti gli accordi internazionali fra stati su questa cosa delle tasse. Quindi ecco, questo, se volete venire, io sono qua, vi mando il mio indirizzo, c'è la Ryanair diretta da diverse parti d'Italia, Bergamo sicuramente e Napoli se non erro, e quando volete venire... Si vede che questo entusiasmo che sta durando da tanto tempo, perché effettivamente visto da qua sembra il paradiso, cioè non un freelance camp internazionale, è un freelance camp, appunto. No, no, davvero, tutto quello che vi ho raccontato è vero, non ho infiocchettato niente, la pura verità è io così basita ogni volta, cioè, cuori. Infatti ho deciso di comprare casa qua, ho deciso di farci un figlio qua e di rimanerci, cioè nel senso, cioè... Sì, sì, c'è molto entusiasmo in platea. Qualcuno mi chiede, mi chiede come hai fatto con la lingua, sorry for my Aston. Esatto. No, no, esatto, qui inglese, inglese è tutta la vita. Io, vabbè, ho studiato lingue, quindi l'inglese già l'ho studiato bene, però ovviamente solo lavorandoci poi in un'azienda internazionale e usandolo. Però davvero qui, sì, magari in alcune aree molto residenziali, è difficile trovare qualcuno che parla inglese, ma ci si parla già. Se c'è Google Translate, no, ragazzi, ve la devo raccontare. Allora, mi sposo a maggio, ho comprato qui il vestito da sposa e ho dovuto accorciarlo, perché da qui non si vede, ma insomma sono una persona bassa. E quindi vado ad accorciare il vestito e la sarta parlava solo ed esclusivamente russo. Google Translate. Lei parlava, mi veniva fuori il testo in italiano, io parlavo in italiano al mio Google Translate e le veniva fuori il testo in russo. Fatta, ci siamo capite? Adesso devo ancora ritirarlo, dire cosa è venuto fuori, ma mi sembrava di aver capito giusto. Però davvero, nessun problema di lingua. Tutto ciò che riguarda la comunicazione con le istituzioni in inglese e tantissime, davvero, praticamente tutti però in inglese, se lo studiano già dall'asilo. Eh, fantastico. Beh, già qua trovare la sarta che usa Google Translate, non ho prioscosi scontato, ecco. È stato fantastico. Questo mi sembra molto interessante. Il livello di digitalizzazione della popolazione che non faccia il digital marketer è un fattore molto, molto interessante. Mi chiedono, chiede Gabriele, se per aprire l'SRL in Estonia hai usato servizi che aiutano nell'apertura o hai fatto tutto da sola? Allora, ci sono delle aziende specializzate in questo. Io però ho fatto tutto da sola, perché avevo tempo di mettermi lì a informarmi, a leggere bene, a sentire commercialisti, eccetera, anche solo pareri. Quindi in realtà ho fatto tutto da sola ed è assolutamente fattibile da soli, non ci sono cose nascoste, non rischi di, oddio, l'anno prossimo mi trovo a pagare, chissà, qualcosa di multa perché ho sbagliato. No, è tutto trasparente. Ho anche chiamato diverse volte, per l'ansia che ho che arriva dall'Italia, diverse volte il tax board e altre cose per chiedere, ma veramente funziona così se faccio questo? Sì, ma veramente? No, è davvero semplice. Ho fatto tutto da sola, ma è davvero facilissimo. Fantastico. Grazie Fiorella, ci hai aperto dei panorami veramente incredibili e siamo molto felici. Freelance Camp Estonia a breve. Perfetto, quando volete. Il problema è che se noi andiamo a fare il freelance camp in Estonia, cioè i freelance estoni ci dicono, ma di che cosa vi lamentate? Cioè, venite qui che è tutto facile. Ecco, venite a luglio, perché ho letto prima un commento di Roberto che parla di 17 gradi, probabilmente lì dove lui in Grecia. Ecco, qui siamo a meno 2 al momento, quindi chiaramente essendo un po' più a nord, un po' più fresco, ma i mesi estivi, i mesi estivi sono una figata fotonica, da giugno ad agosto, è caldo ma non se more, come in Italia, quindi siamo sui 20-25 gradi, e c'è luce dalla mattina fino alle 10 di sera. Cioè, dalla mattina alle 5, alle 10 di sera, perché ovviamente essendo più vicina al polo. Fantastico. Perfetto. Grazie Fiorella. Grazie mille e arrivederci. Yes, arrivederci. E ad Aiga, come si dice in Estone. Grazie mille e arrivederci.